Il settore del gioco in questo ultimo periodo è fortemente l'attenzione della politica, delega fiscale, decreto sanità, il suo punto di vista? Il mio punto di vista è che resta un settore trainante, comunque che ha delle performance di estremo interesse, il fatto che ci sia anche da parte delle istituzioni un'attenzione molto forte vuol dire che c'è la comprensione dell'importanza di una filiera industriale che va mantenuta e rafforzata. Si è messo in dubbio l'accorpamento AMS, agenzia dogane, si è parlato delle necessità di un'agenzia dei giochi, lei che cosa ne pensi? Io sto alle norme che sono vigenti, non mi scandalizza nulla, credo che il passaggio dell'agenzia, dell'amministrazione monopoli alle dogane non sia un trauma, che possa essere un'operazione che complessivamente rende virtuosa ancora di più la gestione del settore. anche se fosse stata fatta l'agenzia non sarebbe stato un grave dramma, quindi credo che la politica possa decidere con serenità, l'importante è garantire il mercato che è la cosa più importante. Grazie.